Buongiorno, voi mi stigate e qui mi trovate, anche perché il mio ragionamento è sempre quello di esortare le persone al ragionamento. E per rispondere questa volta alla eco che sento come dei tam tam, sono sbarcati altri migranti, quelli che hanno firmato Dublino due, Salvini e Meloni, dicono che l'Africa non si può trasferire in Italia. Una grande battuta quella. Allora, Giorgia Meloni e Salvini devono ricordarsi che hanno delle origini. Perché la Lombardia si chiama così? Da Longobardi, perché il Veneto si chiama così? Dai Veneti, un popolo scandinavo. Perché è stata costruita Venezia? Palafitticola Venezia, no? Questo poco popolo scandinavo che si chiamavano Veneti, che si chiamano ancora Veneti perché vivono lì. Hanno costruito Venezia secondo i loro criteri di palafitta. Perché hanno fatto una cattedrale nell'acqua? No? La chiesa di San Marco. Perché nell'acqua? Perché il popolo dei Veneti erano palafitticoli e vivevano, vivevano sull'acqua. Avete mai sentito parlare del Doge? Avete mai sentito parlare del Duce? Avete mai sentito parlare dell'impero romano, dell'imperatore Claudio, dei re di Roma, i re, delle regine? Ancora oggi ci sono le regine, ci sono i monarchi. Ma come pensate che abbiano fatto ad accumulare tutte quelle ricchezze? È da lì che deve partire il ragionamento. Allora, ritorniamo alla notte dei tempi e ammettiamo che per pura casualità l'insieme di virus e batteri, magari non patogeni, danno origine all'essere umano. Perché? Quella è la notte dei tempi, quando è stato generato il primo essere umano. E il primo essere umano, quando è stato generato per la prima volta, perché non mi sapete rispondere come è stato generato l'essere umano? Perché è da lì che dovete partire. Comunque, ammettiamo, secondo me è una questione di elettromagnetismo, però, no, perché noi siamo elettricità. Vado avanti. Notte dei tempi, nasce un esemplare uomo, un esemplare donna e lasciamo perdere i casi di ereditarietà. Non sono parenti, non lo sono. Vanno avanti e procreano prole. Oppure, la notte dei tempi, sono nati dieci uomini e dieci donne. E poi i figli di questi uomini e di queste donne si sono uniti in matrimonio ed hanno creato la popolazione mondiale. Così è meglio, no? No, perché la storia di Adam e Eva, poi, se ci sono casi di... sapete che tra parenti non ci possiamo accoppiare, perché il risultato sarebbe quello di nascite di individui con carenze strutturali, emofilitici. Avete mai sentito parlare di Maria la Sanguinaria? Erano i nobili nel Regno Unito che, per mantenere il potere, per mantenere il casato, si riproducevano tra di loro. E riprodursi tra parenti non va bene. Perché? Così chiudo l'anello. Perché? Per creare un individuo forte ci devono essere ceppi diversi. Meloni e Salvini e chiunque sostenga che l'immigrazione deve cessare. Si devono ricordare che loro hanno origini spagnole, asburgiche, romane, portoghesi, arabe, normanne, longobarde, venete. Sono tutti popoli che provengono da diverse parti dell'Europa, quando ancora non c'erano i Jumbo Jet, venivano in Italia perché? Perché l'Italia era il paradiso terrestre. E l'ispirazione di scrivere il più bel romanzo è anche le sacre scritture, perché le sacre scritture sono piene di buoni insegnamenti. Peccato che chi predica bene può razzoli male. Andiamo un po' più avanti. Che cosa accade? Che nascono i re, nascono gli imperatori, avete sentito parlare di Cleopatra, avete sentito parlare di Giulio Cesare, avete sentito parlare anche di Hitler. Hitler era un dittatore che faceva né più e nemmeno quello che facevano i romani. I romani con i pretoriani, che erano coloro i quali dedicavano la loro vita, cioè i militari come i lanzacenecchi, come i militari che stanno nell'esercito americano. Che cosa fanno quelli? Fanno in grande quello che una volta facevano in piccolo, tra le città. Ci siamo già spostati più avanti, devo cercare di ripercorrere questo percorso velocemente, perché se no, se vi parlo della terra quando è nata l'esplosione del Big Bang o Big Bang, ci vuole troppo tempo. Siamo nel Medioevo. Nel Medioevo c'erano le città, no? Stato. Una città era uno stato, tanto che in Italia, tanto per ricordarvi qualcosa in Italia, il Medioevo un'epoca buia, dove si sa poco e niente, oppure si sanno tante cose ma hanno preferito non dirle. C'erano delle città e in ogni città c'era il castello. A Milano il castello sforzesco e via via. Di seguito, via via di seguito, quando dicono che bello quel percorso, mi sembra che sia il fiume francese, la Loira, i famosi castelli della Loira. Perché c'erano i castelli? Perché lì ci abitavano i cattivi, non erano bravi. Allora, una persona per avere soldi, se lavora onestamente, e il lavoro di una volta qual era? Potevi fare il falegname, potevi fare il fabbro, potevi fare il sarto, oppure potevi fare il banchiere. C'erano anche i banchieri. I banchieri però erano coloro i quali avevano i cavò, custodivano il tesoro dei cittadini e rilasciavano in cambio, come è stato fino a prima dell'euro, rilasciavano in cambio un certificato di credito. Il denaro si chiama certificato di credito. Quello che abbiamo adesso è un certificato di debito, perché noi dobbiamo acquistare il denaro dalle banche. E questa è la verità. Poi se sia vero, se sia giusto, se sia sbagliato, io non lo so, non me ne frega niente. L'unica cosa che invera il denaro è il lavoro. Non c'è altro. Allora, andiamo avanti. Quindi, i castelli, le rivalità tra le città. Una città andava a prendere l'altra città, con cosa? Con i militari, con i soldati. Ogni castello aveva i soldati. Ma questo per farvi capire cosa? Per farvi capire l'origine dell'uomo e l'origine di quanto si sia l'uomo arricchito sfruttando gli altri. Quando il castello della città A mandava i soldati a prendere la città B, chi vinceva si prendeva tutte e due le città. Il re non c'era più. Un re non c'era più, ne rimaneva solamente un altro che diventava re delle due città. Qui lo hanno fatto ultimamente, perché dopo il medioevo, l'illuminismo e tutto quello che ci hanno raccontato, c'è il modo di rubare alla Jesse James. Cioè, si lascia che uno Stato, che poi lo Stato era stato unificato, l'ultima unificazione di Stato, per poterlo governare meglio. Perché hanno fatto l'Europa? Per poterla governare meglio. Provate ad immaginarvi di governare 8000 città, perché tali sono in Italia. Ognuno con il suo re, capite? Quindi l'unione che da una parte con una truffa semantica è la cosa giusta, ma è la cosa giusta tra le persone per bene, invece diventa l'unione di che cosa? Diventa l'unione di più posti, di più spazi, quindi di più caseggiati, chiamiamoli così, che vengono inglobati in una città per poterla dirigere. Come? Con i sindaci, che secondo me devono essere aboliti, perché sono una spesa impropria e una spesa deleteria. con la tecnologia ormai, perché devi andare in comune? A fare che? A chiedere di poter costruire? Chiedere di poter costruire, invii una richiesta al Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Ambiente ti dice se puoi costruire oppure no. Secondo piano regolatore è stipulato però dallo Stato, purché nel territorio e a conoscenza delle caratteristiche del territorio. Non serve a niente il sindaco. Il sindaco serve solo ed esclusivamente a... Lasciamo perdere gli esempi lì della Raggi, che la Raggi è più che altro una che è entrata dentro dicendo, voi avete speso un sacco di soldi, vi faccio vedere adesso che si può fare, si possono mettere a posto le strade senza rubare. In pratica ha fatto questo, io l'ammiro per questo. Non ammiro più il Movimento 5 Stelle, però credo che ci sia da chiarire qualcosa. Quindi che cosa accade? Che i cattivi, cioè quelli che hanno i soldati, quelli che hanno i soldati, che loro pagavano, come? Saccheggiando le altre città. Adesso questo non lo fanno più, sono più furbi, li fanno pagare a noi i soldati. Noi paghiamo le forze dell'ordine e quando abbiamo qualcosa da ridire a quelli che governano e a quelli che noi votiamo, ma quelli che noi votiamo sono già precostituiti i giochi. Noi votiamo per persone che qualcuno ha già detto, quindi ci fanno vedere i candidati. Provate voi a fare un partito, provate voi a andare in televisione. Quelli che vedete in televisione sono persone che sono già predestinate persone. Perché al potere non gliene frega niente se parli male di loro, se parli male dell'Europa, se parli male di Mario Monti. Tanto loro, un criminale, uno che organizza le guerre e che ottiene il bottino a qualsiasi costo, uccidendo anche gli altri, con qualsiasi scusa. Gli ne frega qualcosa se parli male di lui. Gli ne frega niente. Va avanti per la sua strada. Lì sono i magistrati che paghiamo noi che dovrebbero intervenire, ma non lo fanno. Perché? Perché è un sistema molto bene organizzato, ma il sistema molto bene organizzato che si basa sulla menzogna è un castello di carte. Quindi continueranno in perteriti a sfruttare i cittadini. Come? Questa volta, non più bombardando come facevano prima, perché ogni 50 anni facevano una guerra. Poi davano il tempo al popolo di riprendersi, di rimettere in sesto tutto. Poi loro arrivavano e rubavano tutto nuovamente. Come? Imponendo gli uomini politici, imponendo i potestà, imponendo tutto quello che è il controllo su di noi. Che siamo quelli che devono essere sfruttati. Ricordatevi che noi paghiamo lo stipendio dei politici. Noi paghiamo lo stipendio dei burocrati. I burocrati e i politici non lavorano per i cittadini e lo hanno dimostrato. Noi abbiamo 2.500 miliardi di debito pubblico, sui quali paghiamo ogni anno più di 100 miliardi di interesse. Diventa troppo lunga poi la puntata, ma vi dovete svegliare. Vi dovete svegliare. Ricordatevi che non potete fare la guerra ai cari armati. Però potete prendere delle iniziative e infilarvi nel sistema, perché il sistema è pieno di falle. La menzogna è debole.